Se vuoi essere felice per un giorno, dai una festa. Per due settimane, fai un viaggio. Per un anno, fai un giardino. Gardening in collina. Mostra il mercato floro-vigualistica. A Montaldo Bormida. 5-6 giugno. Fiori, piante, arredi attrezzi per giardinaggio, prodotti tipici locali e attività per bimbi. A Montaldo Bormida. 5-6 giugno.